Cinema e educazione è il tema che vogliamo trattare qui in studio con Gino Buscaglia. Lo spunto ci viene da un'iniziativa, che sono tre film proposti su questo tema del rapporto fra cinema e educazione. Gino, tu oltre a essere un grande esperto di cinema, sei anche il presidente di Castellinaria, che è un festival per ragazzi, quindi dove la preoccupazione educativa è sempre stata presente fino dalle prime edizioni. Il cinema può essere davvero un grande strumento educativo? Altro che, anzi, è forse il più grande strumento educativo anche perché il cinema è un linguaggio, è il linguaggio che l'essere umano nella sua grande creatività ha scoperto e strutturato che praticamente è la sintesi chimica di tutti i linguaggi precedenti, per cui c'è il pittorico, lo scultoreo, l'architettonico, il musicale, il drammaturgico teatrale, c'è tutto, però è diventato non una somma di questi diversi linguaggi precedentemente sviluppati dalla creatività umana, ma una sintesi chimica, quindi una nuova sostanza. Però, proprio per la sua complessità, che in apparenza, nel momento in cui si propone, sembra semplicità, può essere equivocato perché riesce a far passare il linguaggio cinematografico attraverso i suoi prodotti, che sono i film, messaggi che talvolta, nella loro profondità, non vengono colti, però influiscono. Allora, educativo il cinema, certo, non soltanto per quel che dicono i film nei diversi argomenti che propongono attraverso le loro storie, ma per quel che è lui, cioè come linguaggio, che deve essere fatto scoprire come tale e insegnato, cioè è necessaria un'alfabetizzazione al linguaggio cinematografico. E questo è uno dei motivi per cui è nato Castellinaria. Il cinema però, è evidente, credo sotto gli occhi di tutti, è una macchina per far soldi, quindi inevitabilmente sottostà delle leggi di mercato. Quanto si fa fatica poi a proporre dei prodotti che siano davvero interessanti? E quando diciamo educativi, mi piace abbinare la nozione di bello. Hai ragione, hai ragione, la nozione di bello è fondamentale, mancherebbe alla bellezza salverà il mondo, insomma. Non per niente i regimi autoritari, la prima cosa che colpiscono è la cultura e la bellezza, guarda caso. Ma guarda che l'equivoco dell'arte e cultura legate al cinema c'è dall'inizio, anche perché è una forma d'arte che a differenza di molte altre ha bisogno fondamentale, ha bisogno di soldi. Perché Alessandro Manzoni per scrivere i Promessi Sposi ha avuto bisogno di una risma di carta e di una penna, penna d'occa inchiostro. Ma per fare un film tu puoi scriverti la tua bella sceneggiatura ed è come scrivere un libro con un investimento minimo, ma poi devi convincere qualcuno a darti milioni per poter realizzare e far diventare film questa tua idea. Per cui i soldi ci vogliono e quindi il cinema nasce inserito dentro una macchina di carattere produttivo inevitabilmente industriale, piccolo grande che sia. I produttori intelligenti, quelli hollywoodiani ma anche quelli italiani, europei e così via, in gran parte cosa hanno fatto? Quelli intelligenti e colti. Hanno sviluppato un'industria di produzione cinematografica facendo roba da mercato così e grazie ai proventi hanno potuto investire in roba di qualità. E quindi ecco la possibilità per i Fellini, per gli Antonioni, per i Visconti, per gli Scola, per gli Hitchcock, per gli Howard Hawks, per gli Stanley Kubrick, di poter riempire la storia del cinema di capolavori assoluti. Mai come in quest'epoca il pubblico, quindi non un'elite, ma il pubblico determina la possibilità di sviluppo di un certo prodotto anche culturale. Oggi questa sorta di democratizzazione possiamo dire che è una bellissima cosa. Ma scusami ti interrompo perché mi stai dicendo una cosa che io condivido alla grandissima e che mi entusiasma da un certo punto di vista. Perché? Perché c'è modo in modo. L'audience è diventata una specie di moloch al quale sacrificare, purtroppo. Però l'audience cos'è? È quantitativa. Manca l'altra rilevazione, quella del gradimento, che invece è più qualitativo. Io ti posso dire che molte volte, proprio quando si portano i film di qualità a scuola, tu vedi ragazzi che sono quelli che mangiano i dannati popcorn nelle sale e che magari non vogliono spegnere il telefonino perché si fanno i messaggi mentre guardano i film, cosa che io li fucilerei sul posto. No, ecco per dire, di fronte a certi film presenti dicono però è bello, però è bello. Prova a pensare al paradosso. Hanno scoperto che c'è un altro tipo di cinema che gli piace. Allora ecco cinema ed educazione. Troviamo le occasioni per far vedere che c'è anche altro cinema che non è soltanto di massa nel senso della quantità che se lo mangia. torniamo anche a un altro discorso. Perché film di qualità durano così poco? Siamo proprio sicuri che la gente non vada a vederlo perché ha deciso di non andare a vederlo? Oppure è una politica distributiva e anche d'esercizio che non dà al prodotto diverso dal solito il tempo di respirare? Ci sono dei film bellissimi che non hanno avuto batage pubblicitario eccetera e che grazie a degli esercenti e distributori coraggiosi sono diventati dei successi. Ti faccio il caso dell'attimo fuggente. È uscito senza nessunissimo tipo di pubblicità. È stato il pubblico che l'ha scoperto e tam 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 andalo a vedere ed è diventato un caso. La rete internet ha cambiato il panorama cinematografico. Io ho notato anche soprattutto con i giovani che consumano molte più, uso proprio la parola, consumano molte più immagini di quanto io alla loro età consumavo perché quello che avevo a disposizione allora era il cinema punto e poi è arrivata la televisione dopo con un canale solo. Va bene. Questi invece hanno la possibilità di consumare miliardi di immagini di tutti i tipi. Dal cinema di grande qualità a quello di pessima qualità, dai prodotti che sono il dialetto del linguaggio cinematografico, che sono i prodottini realizzati in qualche modo e buttati su YouTube eccetera eccetera eccetera. La televisione che sono centinaia di canali e così via. Però questa è inflazione e allora la moneta cinema si è svalutata. Questo è un dato di fatto prima di tutto. Ma è questo l'aspetto negativo. Troppo. Troppo è in modo indifferenziato. Quello positivo è che io posso addirittura non soltanto più leggerlo il cinema ma scriverlo. Cioè lo faccio. Perché con il sistema digitale mi basta una telecamerina, delle idee belle precise, un gruppo di amici che si presti, pochissimi soldi e io un film riesco a realizzarlo. Non solo ma grazie alla rete lo posso pure far vedere. E quindi è democratizzazione della produzione cinematografica. Ma per arrivare a questo cosa occorre? Occorre che qualcuno abbia detto a quel ragazzo che cosa è il cinema, come lo si fa, perché lo si fa, che senso può avere. Il cinema esiste. Può essere utilizzato per delle finalità straordinarie e anche per il contrario. L'importante è indirizzare verso una consapevolezza una alfabetizzazione vera e un indirizzo ideale. Per cui l'appello a tanti docenti. Guardate che la cultura non è fatta soltanto dai libri. È fatto anche dal cinema, dalla pittura, dalla musica e guarda caso nel linguaggio cinematografico tutte queste cose si integrano. Una parola finale su questa proposta di tre film in questo ciclo appunto fra cinema e educazione. Questa è una serie di incontri, è un ciclo che praticamente l'istituto universitario propone ormai da alcuni anni e che mi vede sempre a collaborare con loro. Per l'aspetto cinematografico cosa hanno fatto? Loro usano un film normalmente di qualità che abbia un contenuto forte oltre che a saperlo esprimere bene sul piano del linguaggio e lo ancorano a una tematica altrettanto forte che nel film può essere presa e rappresentata o anche solo accennata, ma non c'è solo il critico cinematografico che gli spiega la rava e la fava. C'è soprattutto un esperto di quel tema particolare che dopo il film, partendo dal film, sviluppa un discorso molto ampio che è di carattere squisitamente educativo. Quindi è cinema di qualità e che è un modo anche per dire guardate che il cinema non potete prenderlo sotto gamba perché guardate cosa lo vi propone.